Buona giornata! I tuoi figli capiranno chi sei da quello che fai, non da quello che dici. Wayne Dyer. Anche oggi vi chiedo, voi da quale parte state? Da quelli che fanno tutto ciò che non dicono, ovvero da tutti quelli che, come si dice in Toscana, predicano bene e razzolano male, ovvero dicono, ma devi fare così, perché se non fai così non va bene. E poi loro sono i primi a non fare in quel modo lì. Oppure siete quelli che prima pensano e fanno quello che dicono e poi dispensano consigli. Da quale parte state? Ovviamente non c'è una parte giusta e ovviamente tutti un po' ogni tanto sbagliamo. Ma l'importante è mantenere sempre la rotta, è accorgersi di quello che facciamo, degli errori che facciamo e riprendere a fare le cose nel modo giusto. Fai capire chi sei da quello che fai. Guida con esempio. Perché quando guidi con esempio non solo i tuoi figli, ma anche il tuo team di lavoro, i tuoi amici, capiranno che sei cambiato e ti seguiranno come non mai. Daniele Paci, per felicità e pace, vi augura buona giornata. Om Shanti. Shanti. Om 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 Shanti.